Devo raggiungere quel carbonè. Devo distruggerlo. Come faccio? Quel rumore forte coprirebbe lo sparo del fucile. Letta! 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 Allora! No, 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 no. Ottimo lavoro, se posso dirlo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Moment. Ein Geräusch? Nicht nachlassen! Sì. 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 Troppe Jämer. Bomb sta facendo sul serio. È ora di andarsene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.